Prende il via per Alassio la fase operativa per l'aiuto alle popolazioni terremotate. Alassio è stato uno dei primi comuni liguri ad adoperarsi concretamente per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, con la delibera di giunta del 9 settembre che autorizzava a fornire un'aliquota della polizia locale in missione in centro Italia. Sono infatti tre gli appartenenti alla polizia municipale, coordinati in prima persona dal comandante Francesco Parrella, a partire per il comune di Gualdo, in provincia di Macerata. La destinazione è stata fornita dal Dicomac di base Arieti, attraverso il quale personale del Dipartimento della Protezione Civile e di Anci Nazionale organizza e pianifica gli ausili in tutti i comuni che sono stati interessati dal terremoto. Gualdo è un piccolo borgo medievale di circa 1000 abitanti che ha subito ingenti danni, compreso il crollo parziale del plesso scolastico e nel quale il comandante Parrella, il commissario Franco Foschini e l'agente Alfio Sciuto avranno compiti di vigilanza operativa e di ausilio amministrativo. Sarà necessario inoltre fornire assistenza e controllare le tensostrutture ancora presenti e di moduli abitativi che stanno sostituendo le tende, anche in vista dell'inverno, particolarmente rigido in quelle zone appenniniche. La missione nelle Marche durerà una settimana, il rientro è previsto dunque per il prossimo weekend.